Ma ho un video, ho messo dal congelatore al forno il pasticcio di quelli, sai che compri congelati no? E' già 15 minuti che al forno, insomma quasi la cottura ideale. Deve essere una certa croccante no? Un po' no? E vabbè. E poi si mangia no? Io ho una fame adesso, credetemi. Quando fai vita come la mia no? E' come se fossi sposato, divorziato, fidanzato, tutto insieme no? E mi piace così. E perché no far vedere una situazione tipo il fuoco no? La legna no? Sono quelli che piace, sai, quelli che hanno con la natura, sai. Io non so nemmeno se faggio questo o cos'è no? Mio papà se ne intende, lo dice sempre. Guarda quello è un faggio, quello è un abete. Ognuno ha la sua passione no? Vabbè il fuoco si sta spegnendo, vediamo in diretta. Wow! Tipo, ma meglio pellet, perché il pellet stasera è da caricare no? Finito il serbatoio. Però, sì, adesso mangio il pasticcio. Beh, buon anno a tutti!